Questo gruppo ha un cuore importante, dobbiamo goderci perché oggi abbiamo fatto una cosa veramente importante, ma come dico sempre abbiamo un obiettivo che vogliamo raggiungere il prima possibile. Oggi c'è da godersela, ma da domani dobbiamo pensare a domenica prossima. Spero che sia un gol che dà fiducia a me e alla squadra e si possa raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. Sono contentissimo, ma più di tutto per la vittoria che ci mancava da qualche settimana e farlo contro la capolista così dopo essere stato in vantaggio è una cosa che personalmente mi rende più felice, ma penso anche tutta la squadra.